Buonasera a tutti amici di Lubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale, parliamo di Olivier Giroud perché vedo tanta preoccupazione dai tifosi per una scarsa informazione dei giornalisti che molte volte non tifosi in qualche modo speculano, in qualche modo spaventano i tifosi. Partiamo da quest'immagine, il Giroud che indica manca poco così, manca poco così, infatti leggo molte notizie false, molte notizie contrastanti sull'infortunio, sul pseudo-infortunio di Olivier Giroud però mi sono informato e in qualche modo di cosa sono venuto a conoscenza che il Milan e il calciatore hanno provato a vedere in qualche modo come procedeva l'infortunio, l'ombalgia e ovviamente il giocatore non essendo ancora al top, in qualche modo non ha ancora smaltito il dolore e oggi il dolore lo ha infastidito e quindi ha lasciato l'allenamento. Quindi a quanto pare il giocatore ha provato, ha in qualche modo visto e considerato la sua voglia di tornare, la necessità anche di tornare a provare, a mettere su minuti, visto anche il periodo di Covid che lo ha rallentato, ha provato ma non è ancora pronto, non è ancora guarito, non è ancora passato il dolore alla schiena. E comunque volevo tranquillizzare un po' i tifosi per questo, dandovi questa notizia e rassicurarvi sul fatto che comunque il calciatore non sarebbe partito titolare per la partita contro il Venezia. Vedremo ora se il giocatore verrà convocato per la partita dopo il Venezia e quindi con lo Spezia però il giocatore non ha ancora recuperato dal mal di schiena. E quindi da questo fastidio per chi ha giocato a calcio sa che il mal di schiena ovviamente è uno degli, possiamo chiamare fra riguardanti, infortuni, dei più dolori, più comuni e che infastidisce maggiormente il calciatore perché la schiena è un po' il, possiamo dire, l'ipicentro è la parte più importante di un calciatore perché dà l'equilibrio e anche i movimenti, tutti i movimenti ovviamente coinvolgono questa zona del corpo. Allora, quando parliamo di infortunio, in qualche modo possiamo dire, non collegato a Giru ma collegando al gruppo squadra, possiamo dire che il turnover che attuerà Stefano Pioli per la partita contro il Venezia sarà un turnover comunque abbastanza limitato, seppur però prevedo diverse novità. La formazione più probabile potrebbe essere quella con Magnan in porta, con Calulu, Gabbia, novità, Tomori che dovrebbe stare in panchina, turno di riposo, Romagnoli, Tornandez, doppio play davanti a difesa con Tonali e Ben Nasser, Florenzi, Braindiaz e Raffaele Au e Ante Rebic che guiderà l'attacco con molta probabilità la possibilità di impiego durante la partita anche di Pietro Pellegri per cui le condizioni fisiche sono in netto, in netto miglioramento. Quindi tranquillizziamo da un lato l'infortunio, il pseudo ritardo di rientro, possiamo chiamarlo così, di Olivier Giroud e dall'altro il Milan, la probabile formazione contro il Venezia, qualche turnover, purtroppo la rosa seppur lunga grazie al mercato in questo momento è falcidiata da assenze, però un Milan sicuramente competitivo che andrà a giocare, che giocherà contro il Venezia con lo stesso spirito, con la stessa voglia, la stessa determinazione, passione e mentalità per portare a casa un risultato davvero positivo. E come sempre se vi ha piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di scaricare al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.